In occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia si è presentata presso la sala giunta del Comune di Napoli la mostra Totò l'Italiano. L'iniziativa prodotta dal Forum Universale delle Culture e il Comune di Milano è prevista per il 2011 e si aprirà nella città di Milano. Successivamente si terrà anche a Napoli nel Teatro Totò, una mostra fotografica per ripercorrere tutta la vita del Principe della Risata e per studiarne il linguaggio e la gestualità. Previsti approfondimenti ed un programma di diffusione e valorizzazione di carattere scientifico e multimediale con proiezioni, materiali, video e momenti di discussione. La mostra rappresenta un messaggio di unità nazionale, queste le parole di Nicola Audati, Assessore alla Cultura del Comune di Napoli. Hanno partecipato alla conferenza anche Massimiliano Finazzer Flori, Assessore alla Cultura del Comune di Milano e Marina Vergiani, direttrice del PAN. Infine anche Pina Conte dell'Associazione Antonio De Curtis. Le due città di Milano e Napoli, cioè la capitale del nord e la capitale del sud, hanno deciso di celebrare insieme i 150 anni dell'Unità d'Italia con una mostra dal titolo Totò l'Italiano. Una mostra dedicata al grande attore Antonio De Curtis, ma al di là dell'attore una mostra dedicata all'uomo. L'uomo di scena, l'uomo di costume, l'uomo di lingue, l'uomo di gesti, l'uomo capace di unire con un'espressione l'intero paese o capace con un'espressione di criticare una cultura, un dialetto, una lingua, un modo di essere, di renderela ridicola, di renderela assurda, ma alla fine in quest'uomo ci siamo riconosciuti tutti, da Ventimiglia a Canicattì e questo è il senso di questa iniziativa molto importante che nel 2011 si svolgerà a Milano, a Palazzo Reale e al Museo Morando. E qui a Napoli, al Museo Totò, che sarà riaperto per l'occasione in tutti i suoi due piani e con tutte le sue strutture, e poi al PAN per un approfondimento documentario, in particolare sui gesti e sulla lingua di Totò, che sarà curato da Goffredo Fofi. Totò è l'uomo che riunisce l'arte e l'arte è in fondo una interrogazione, una domanda sulla nostra identità. Che cos'è l'arte se non questo? E quindi Totò è insieme la domanda e la risposta, ci interroga e ci dice chi siamo e ci offre non soltanto linguaggio, il gesto, la mimica, ma anche il testo, un testo italiano, perché egli interpreta, descrive e rappresenta vizi, ma anche virtù dei italiani. E credo che oggi per le nuove generazioni che non hanno conosciuto l'epoca di Totò sia veramente importante fare i conti con questo artista straordinario di livello internazionale che dovremo in realtà cominciare a promuovere all'estero, non soltanto nel nostro paese. Il dialetto è un valore aggiunto, secondo me, di un'Italia che deve mantenere le differenze ma annullare le distanze. Un napoletano che unisce Napoli-Milano in un momento così difficile per il nostro paese, io penso che sia il più grande, lui sicuramente sarà felicissimo di tutto questo che sta avvenendo intorno alla sua figura. Immaginate che quando lui parlava con la figlia diceva sempre io quando sono morto poi tutte queste cose non esisteranno più, non immaginava mai e poi mai che dopo cento anni e passa dalla sua morte si parlava al presente di quest'uomo ed era talmente attuale nel linguaggio, nel vissuto sociale, nell'uomo proprio stesso, nell'uomo e poi nel principe, una perla irregolare.